Grazie per ogni singola lacrima di felicità e nonno, anche ogni singolo momento di rabbia è prezioso. Siamo diventati tifosi del Napoli, io in 2010 che stavo in Italia ho visto una partita e da lì mi sono innamorato, un giorno all'improvviso mi sono innamorato. Anche se sono lontano fisicamente, il mio cuore è sempre con te e sempre lo sarà, qualunque cosa dovesse accadere. Napoli abbiamo un sogno nel cuore e torna campione. Il Napoli ormai è parte della mia vita, io sono cresciuto, ci ho giocato per poco tempo e sono cresciuto vedendo le partite del Napoli. Mia mamma mi portava allo stadio già da piccolo. Un tifoso del Napoli da quando ero bambino, mio padre mi portava allo stadio a vedere Maradona. Questo cuore alle mie spalle penso che sia la risposta ottimale. Napoli per me è senso di appartenenza, pensare al Napoli per me significa pensare ovviamente a casa. Ovviamente mi aiuta a sopperire a tutte le mancanze che ci sono quando si vive all'estero, quando si vive in un'altra nazione. Sono diventata tifosi del Napoli perché in realtà non avevo altra scelta. o nonostante i chilometri e la distanza che ci dividono, li amerò sempre e comunque. Amore per la squadra ma anche per la gente napoletana perché ho conosciuto moltissima bella e brava gente.